Salita Colle e via Schiavoni Il paese si è sviluppato fuori dal borgo antico nella zona chiamata il Colle. Nella strada principale di questa zona transitavano e transitano ancora oggi riti religiosi e processioni che uniscono l'intera comunità. In un'area vicina si stabilì un piccolo gruppo di etnia slava, i cosiddetti Schiavoni, ovvero le genti provenienti dall'altra parte del mare Adriatico, giunti a Riccia durante il Rinascimento. Nel dialetto locale questo posto è conosciuto ancora come la Schiavonia.